Ciao a tutti ragazzi, siamo qui ritornati oggi con un altro video, mi raccomando guardate il primo video della presentazione e siamo sempre su Mario Sonic e Gioco 11 di Rio 2016 e questi qua sono dei tornei, ginnastica ritmica, equitazione, tiro con l'arco, iniziamo con equitazione che avete visto anche nel video precedente che sono stato abbastanza bravo. Allora, vi spiego un po' com'è il torneo, se vedete ci sono alcuni giocatori, questi qua sono tutti giocatori, ci sono le qualificazioni e facciamo la gara, ad esempio, qualificazione 1, poi gli 8 qua, che ci sono anch'io, sono quello in azzurro, facciamo la gara, il secondo fanno la loro, il terzo fanno la loro e dopo Alcuni vengono eliminati, quelli con quel punto esclamativo sono quelli, sono avversari temibili, quindi iniziamo subito Io non vi ho fatto vedere dall'inizio l'entrata e tutto perché avevo paura che mi cambiava il torneo, quindi scegliamo me come soli, ah me solo uno, buono, centro nazionale equestre, equitazione Speriamo di vincere questo torneo, che poi sono anche molto bravo in equitazione qualche volta Allora, ne manca uno, il record è per ora 345 Ah, c'è anche l'altro, io sono quello a sinistra Uh, che bello Non ho sbagliato E' per ora che lo sto incendendo io Vabbè, finirà anche prima lei, però noi facciamo meglio Oh no, l'ho sbagliato, sono caduto Andiamo avanti Dai, per ora siamo in vantaggio di velocità, no però Siamo in vantaggio di punti che è quello che conta Un altro perfetto Ops, ho buttato giù tutto No, stiamo perdendo No, non diamo Ottimo e usciamo Non avranno fatto 3.28 alle 13.09 Però abbiamo fatto un punteggio più alto di lei Però vediamo se riesce ad andare prima qualificati I primi 4 sono sempre qualificati Si siamo classificati i terzi E lei? Buono, non lo so Comunque, siamo terzi, siamo qualificati Abbiamo sfortunatamente gli avversari temibili Torniamo alla spiaggia Per la qualificazione semifinale O ci sono altre qualificazioni Oh Ok Sono tolti, tolti Mi ha fatto le qualificazioni Buono, superato Ingresso ai tornei nel 2007 Wow, se c'è un semifinale Continuiamo La gente fuori gli spazi C'è molto attesa per il semifinale Andiamo a vincere Allora Semifinale 1 Ah, c'è divisi in gruppi Ho i soliti più temibili Dai Non so neanche in quanti siamo Credo in 8 Quindi i primi 4 Si, sarà come prima Perché prima erano 4 gruppi Adesso sono 2 Sarà come prima I primi 4 si classificano Ok Ok, noi andiamo anche Andiamo molto più pieno Non ho visto a che punteggio era L'altro Però Attenzione alle pozze di fago Perché vi rallentano Vabbè, tanto se ne facciamo tutto Con la calma Però facciamo quasi Quasi tutto giusto Ci da anche più punti Allora andranno pure più veloce di noi Però noi Almeno facciamo più punti No, abbiamo fatto Ci abbiamo impiegato molto più tempo Però abbiamo fatto Molti più punti di loro Quindi Loro non hanno ancora capito Il gioco Oh, ci sono classificati primi E il nuovo record Nuovo record 388.922 Ci siamo qualificati molto bene E un temibile è fuori Un temibile è fuori Dai, dai, buono, buono Un temibile è fuori C'è chi addirittura Ha fatto 200 Io ho fatto 85 Io ho fatto 300 85 Ed è l'ultimo Ok C'è un finale fatta Quindi Abbiamo un temibile Un è andato Uno c'è Vediamo Vediamo Andiamo avanti ancora Intanto Non farò mai durare Non farò mai durare Non farò mai durare Di più Più tempo Più di 15 minuti i video Perché se no Uno non mi lascia caricare YouTube E due Sono anche più noiosi Dai, andiamo veloci Credo che faremo solo questo 7 minuti e 38 Che abbiamo fatto Quindi Non ci riusciamo Facciamo questa finale E dopo Li saluterò Ok Siamo contro un avversario Allora temibile Alla fine Ah, ho sbagliato la partenza Ecco Cosa che ho sbagliato Questo qua E' quello bello No, non so Sì, sto farlo E si vede che sono avversari temibili Vabbè che sono anche più avanti Quindi noi ci possiamo anche dopo Più concentrare No, ho sbagliato Ho sbagliato Ci ha rallentato molto Questo Inoltre è il rollaggio Ok, andiamo avanti Slalom Qua 101 302 Lui chiude in 139 Lo siamo già A 351 Quindi Il temibile L'abbiamo già superato 374 3784 Giova 70 L'abbiamo fatto 10 secondi Ci abbiamo impiegato 10 secondi In più di loro E siamo ancora primi Siamo ancora primi Quindi La classifica È Primo io Primo Medaglia d'oro Dai Buono Bella Mi sono classificato bene Primo Quindi Il video si conclude qua Mi raccomando Guardate anche la presentazione All'inizio Che siamo E Niente Grazie di essere stati con noi E ciao Alla prossima Se volete essere salutati Scrivete nei commenti Quindi Per gli altri video Saluto Diana Simonetti E Scrive Perché è l'unica Che mi ha commentato Scrivete sotto Se volete essere Se volete Volete che vi dica il nome Nel video Quindi ciao Guardate Mi raccomando La presentazione